Tutti uniti per uscire al più presto dall'emergenza, senza differenze di colore politico. Tutti i capigruppo verbanesi, con il sindaco Silvia Marchionini, il presidente del Consiglio Comunale Gian Domenico Albertella, hanno sottoscritto dopo una videoconferenza un appello ai verbanesi. Avere sempre una condotta responsabile per sé e per gli altri, attenersi scrupolosamente alle prescrizioni indicate dei decreti, soprattutto rispettando in ogni luogo pubblico, là dove è inevitabilmente necessario andare, negozi alimentari, farmacie, l'assoluta distanza di sicurezza, la regola di muoversi da soli senza famiglia a seguito, le norme igieniche del caso scrivono, soprattutto invitiamo tutti a muoversi in auto o a piedi solo per assoluta necessità o per lavoro, avremo tempo e modo di recuperare in futuro le ore per vivere la nostra città, stiamo a casa. Nella lettera ricordano tutti i servizi per gli anziani e i più deboli, di consegna di farmaci e della spesa e che sono stati istituiti il numero 0323 54 24 88 e l'email info-coronavirus-comune.verbagna.it per tutte le informazioni. E intanto si pensa quando cesserà l'emergenza con una rete che sarà costruita per definire le misure di sostegno più adatte a imprenditori e lavoratori, sulla base di alcune proposte già presentate come misure di spostamento e di riduzione della tassazione di competenza comunale a partire dai pagamenti di Tari, COSAP, Tassa per l'Occupazione del Suolo Pubblico e per l'istituzione di un fondo ad hoc e altri supporti. Intanto però c'è ancora troppa gente in giro, continuano i controlli incessanti delle forze dell'ordine ma molti escono liberamente a ogni ora. A Verbagna l'assessore Patrick Rabaini ha chiesto che venissero chiusi i parcheggi di Villa Taranto e del Teatro Il Maggiore dove i podisti continuavano a lasciare le auto per andare a correre. L'assessore ora annuncia di voler iniziare a controllare la città con il drone dall'alto. E c'è giunta la segnalazione di gruppi di escursionisti in giro per i sentieri come nella zona del Monte Rosso. Anche la Trinità di Giffa è stata chiusa per scoraggiare i gitanti che però purtroppo continuano a fare come se nulla fosse.